Alla faccia del surriscaldamento del globo terrestre e del chiacchierato effetto serra. Andatelo a raccontare a quanti ieri, specie automobiliste e pedoni, si sono ritrovati intorno a mezzogiorno a salvare carrozzerie e teste tra Pescara, Città Sant'Angelo e Silvi, potendo testimoniare come in nemmeno mezz'ora la temperatura si sia dimezzata. E strade e tetti si siano trasformati in cartoline dal polo, anziché regalare il romantico colpo d'occhio dei primi di giugno. E se in molti si augurano che il meteorologo francese Laurent Cabrol, che ha annunciato scioccando mezz'Europa che quest'anno, l'estate non arriverà, abbia sparato la più grossa bufala dell'anno, lungo la costa del Pescarese e del Terramano, la grandine di ieri ha colpito le viti, ma ha anche distrutto migliaia di piantine di pomodori, melanzane e peperoni con una conta dei danni, spiega una nota congiunta della col dirette Abruzzo Marchi, ancora oggi in corso. Che cosa sta succedendo a clima e dintorni? Ci siamo chiesti un po' tutti ieri, vedendo queste e decine di altre fotografie. Quanto sia normale o comunque prevedibile che al 10 di giugno si verifichino fenomeni di questo genere, il quesito che invece abbiamo girato all'amico esperto meteo Giovanni De Palma, lo stesso al quale abbiamo chiesto cosa accadrà oggi e nei prossimi giorni, ma soprattutto se l'estate arriverà davvero e quando. Partiamo dalle buone notizie. L'estate scoppierà d'ore anche in Abruzzo, ci dice De Palma, dove già a partire da domani temperature in ascesa e sole ovunque ci faranno assaporare ciò che poi da domenica, con l'aria caldissima pompata dall'anticiclone Ade, ci farà dimenticare in fretta grandine pullover. Quanto alle cattive notizie, eventi come quello di ieri sono tutt'altro che eccezionali, spiega De Palma. Non mi sorprenderebbe infatti, aggiunge, un bis anche a breve. Esattamente come di contro c'è da aspettarsi ondate di calore sui generis, di quelle che ci tolgono il respiro e rovinano campi e coltivazioni al pari della grandinata di ieri.